La lunga attesa è iniziata a Gubbio con l'elezione dei Capodieci della Festa dei Ceri 2023 avvenuta nel corso della giornata di domenica 8 gennaio ha di fatto dato il via non solo e non soltanto al calendario di appuntamenti che cadenzeranno l'avvicinarsi del mese di maggio ma soprattutto al clima di festa che dopo gli anni del covid è tornato pienamente a riempire di emozioni e contenuti le taverne ceraiole. I primi a concludere nella mattinata di domenica le fasi di voto per l'elezione del loro Capodieci sono stati Santubaldari che poco prima delle ore 13 avevano eletto Corrado Fumanti detto Gozzo, 335 voti per lui per molti anni punta davanti della Callata dei Neri secondo Matteo Nardelli, Bino con 152 voti, terzo Matteo Minelli, Gelatino con 116. Riconoscendo in lui lo spirito che ha animato e d'anima i ceraioli di ieri e di oggi il grande attaccamento alla festa dei Ceri quello che lo porterà ad essere sicuro riferimento per le nuove generazioni future l'amore per il nostro santo patrono eleggono con voti 335 primo caponiesi del Cero di Santubaldo per l'anno 2023 in Ceraiolo Tanti voti, quindi tanti amici che ti sono stati vicino bello, ma ringrazio anche chi non mi ha votato il Cero è più importante del Capodieci il Cero è più importante, anche chi non mi ha votato lo ringrazio lo stesso e da oggi comincia il conto alla rovescia per il 15 marzo certo, ci prepariamo come sempre per la corsa era passata poco meno di mezz'ora quando sono stati i ceraioli di San Giorgio a concludere le fasi di voto acclamando come capodieci Eurobellucci detto bomber per lui, appartenente alla manicchia di Padule già ceppo davanti della muta dei meli 390 voti seguito da Alessandro Bocci con 380 e Federico Brunetti 109 922 i votanti totali con 390 voti viene eletto Capodieci 2023 Bellucci e Eurobelli e di non c'è finito che c'è a morte e Federico, e Federico saranno chiusi, saranno chiusi il tuo primo pensiero adesso a chi va? eh lo so, qui ce ne sono tanti sicuramente ha due figure per me importanti che sono state Roberto Casaletto e Vittorio Gacciamai grandi amici e c'era io qui di San Giorgio questa potrebbe essere veramente un giorno da vivere con loro però dai, andiamo avanti il pensiero anche per Alessandro e Federico è stato una bella lotta ovviamente noi abbiamo condiviso questo percorso l'abbiamo condiviso in maniera leale e ci siamo sempre rispettati tutti e tre quindi è una grande soddisfazione adesso devo andare ad un abbraccio anche da loro perché presso dall'emozione sono un pochino sparito scusate si è dovuto attendere il secondo pomeriggio di domenica per conoscere il terzo Capodieci i ceraioli di Sant'Antonio hanno vissuto in fase di spoglio un adrenalinico testa a testa tra due dei candidati alla fine in camera più voti Riccardo Martiri della muta di Santa Maria 310 per lui che stacca di una sola unità Stefano Marinelli Andreoli giunto a 309 preferenze chiude Michele Staffici con 190 voti totali mi presento i miei primoti primo Caponietti è ilépice Sant'Antonio 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 Primavera baciata dal sole, con profumo di rose e di viole. La 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 la. E ma tu, sei più bel fiore di gioventù. La 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 la. E' stata una corsa lunga, partita da lontano, vissuta però in maniera ceraiola col gruppo, ho vissuto il Cero, dal Cero Mezzano, è stata una cosa bella, però dal punto di vista emotivo molto forte. Anche oggi, perché comunque insomma sei capo dieci, non ci sei stato dopo per un voto. Sì, sono contento ovviamente, però voglio dare un abbraccio grande a Stefano, a Michele, in primis, ma a Cesare, a Giordano e a Claudio, che quest'anno hanno avuto gli attributi di mettersi in gioco come me, per una cosa bella, che è importante, che ci piace, che ha dei valori grossi. Non abbiamo avuto paura, ci siamo confrontati e penso che c'è stato un clima giusto e sono contento un bel po'. Primo appuntamento del calendario ceraiolo il prossimo 17 gennaio per la festa di Sant'Antonio Abate, prima di lasciare il posto all'euforia dei Veglioni, il 4, 11 e 18 febbraio, che accompagnerà la fine dell'inverno.